Mazzuoli, Mazzuoli, Mazzuoli Viterbo, strada toscanese, chilometro mille e sette, perfetto. Zero sette, sei uno, venticinque, quindici, cinquanta due. Mazzuoli, buongiorno. Pronto? Mi chiamo Sara Chiavalli, chiamo per conto Risognando Foul. Sì, mi dica. Mi hanno detto che trasportate cose. Certo signore, è il conto terzi. Mo' è una cosa sola, al massimo due, tre, no de certo. Va bene, cosa deve trasportare? Ma un par de scenografie, una struttura di ferro, un par de tavole de legno, de tendaggi, un par de colonne, de legno, eh, state rarquiglie. Signora, fino a centosettanta quintali trasportiamo tutto. Per quando le occorre e da dove? Da me qui a me lì. Da dove, scusi? Me qui. Fino a? Me lì. Come, scusi? Da me qui a me lì. Ah, me qui. Ma me qui dove? Signora, l'indirizzo. Ah, e dillo prima. Davide Erboa. Ma che consegnate a Begano? Arriviamo in tutta Italia, senza alcun tipo di problema. Pure a Chia? Signora, mi sa che lei, Deghia. Fino a Ponte Piasso. La si fermano, perché poi è Svizzera. Ciao. 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 Grazie per la visione!